Sì, anche noi abbiamo delle osservazioni da fare riguardo alla mozione che abbiamo presentato sotto forma di emendamenti. La prima riguarda un'integrazione al punto dove si parla dell'aeroporto di Malpensa, vorremmo aggiungere evitando ulteriori impatti ambientali sulla brughiera circostante. Sappiamo che era stato presentato un masterplan che era stato approvato da Regione Lombardia e che poi è stato ritirato, in cui si prevedeva di fare una terza pista con un impatto ambientale su una brughiera che è già stata massacrata dall'aeroporto di Malpensa in modo veramente pesante e quindi vorremmo evitare e formulare questo auspicio che in futuro si faccia molta più attenzione agli impatti ambientali che può avere l'aeroporto. L'altra è un'integrazione al punto dove si parla della fiume Olona. Siamo assolutamente d'accordo sul fatto di rafforzare le azioni previste, anzi auspichiamo che siano concrete, sempre più concrete sul fiume Olona perché noi vogliamo vedere, anzi speriamo venga fatto a brevissimo termine un incontro per relazionare su quelle che sono state le azioni finora fatte in base alla risoluzione che abbiamo fatto sul fiume Olona, vorremmo aggiungere nonché quelle previste dall'osservatorio del Lago di Varese perché abbiamo appena fatto un'audizione in commissione ambiente, è un altro bacino, è un altro specchio lacustre che veramente versa in condizioni disperate ormai da tantissimi anni. Quindi vorremmo, era stato comunque portato anche questo problema durante il nostro incontro e vorremmo che fosse portato. Sono a chiedere anche di stralciare invece un punto che so essere a lei caro, Presidente Cattaneo, che è quello di completare l'intero sistema viabilistico pedemontano. Come sa noi siamo contrari a delle cementificazioni che potrebbero essere evitate implementando quello che è un sistema viabilistico già esistente e quindi noi vorremmo che fosse stralciato questo punto. Come abbiamo aggiunto che di rivalutare l'opportunità di modificare il tracciato previsto dal progetto per la cosiddetta Varesina bis. Queste sono comunque delle volontà portate dal territorio. Anche per la Varesina bis esiste un nutrito comitato di cittadini che chiede di migliorare la sicurezza delle reti viarie esistenti sul territorio. Ci sono moltissimi incidenti mortali che succedono su quella linea. Non si vede l'utilità di andare a fare e spendere tantissimi fondi in un momento di estrema crisi finanziaria di tutta la regione, andare ad avere un impatto ambientale molto alto per fare un'ulteriore strada quando invece potrebbe essere sufficiente migliorare la rete viabilistica e metterla in sicurezza. Abbiamo fatto anche un'integrazione al punto che riguarda i siti UNESCO, soprattutto per il Sacro Monte di Varese. Chiediamo che venga implementato il trasporto pubblico con la massima attenzione al contrasto del consumo di suolo e alla riduzione degli impatti negativi sui sistemi ambientali, anche rivedendo interventi già previsti. Qui stiamo parlando del parcheggio alla prima cappella. Anche lì siamo assolutamente contrari a questi che riteniamo uno scempio di un ambiente di Varese, di un ambiente protetto, limitrofo ad un sito UNESCO. È un ambiente naturale bellissimo. Andare ad impattare con un parcheggio che francamente ci sembra sempre più inutile, quindi andare a spendere dei soldi pubblici per fare un parcheggio che oltretutto è altamente impattante sull'ambiente, che il territorio non vuole, ci sembra veramente assurdo. Anche questo era stato un punto che era stato portato in maniera molto forte dal territorio e che non troviamo su questa mozione. Quindi vorremmo che fosse aggiunto. Altro punto su cui si discute tantissimo sui giornali è che il territorio, noi sempre ci facciamo portavoce del territorio ed era la ragione per cui erano state fatte queste 100 tappe, sentire quali erano le richieste del territorio, era rivedere il masterplan di Piazza Repubblica Varese. Ci sono stati logicamente degli sviluppi nel masterplan che allora non era stato ancora presentato e approvato, però noi chiediamo veramente che vengano rivisti gli investimenti stanziati. Si parla di 30 milioni in un momento in cui veramente ci sono delle altre priorità. Sono stati fatti presenti in questa mozione, ci sono dei punti che noi condividiamo sull'Uelfar, sull'occupazione, quindi che assolutamente sono importantissimi. Ci chiediamo perché quando andiamo a parlare concretamente di investimenti, poi troviamo gli investimenti, veramente degli investimenti cospicui su cose che non hanno una priorità. Abbiamo voluto inserire anche un altro punto molto importante che è quello di stanziare fondi regionali per la bonifica degli inceneritori ACAM. In questo caso siamo in coerenza con le finalità della risoluzione di decommissioning approvata dalla regione Lombardia. Anche appoggiamo quello che è stato richiesto dai comuni del consorzio e non solo, in modo molto forte, dai comitati dell'associazione ambientalistica. Anche questo era un punto che era stato portato e ci sentiamo di integrarlo ulteriormente con una richiesta di studio epidemiologico nei comuni limitrofi all'inceneritore, perché sappiamo che comunque gli inceneritori producono diossine. Abbiamo visto anche per un altro inceneritore che è quello della zona di Monza-Brianza, quali possono essere i danni anche a livello di alimentazione. Quindi richiediamo veramente questo studio epidemiologico, perché devono essere approfonditi i danni che ci sono agli inceneritori proprio per supportare sempre di più lo spegnimento degli inceneritori nel futuro. E valutare anche la possibilità di utilizzare dei fondi europei, cose che siamo certi che l'assessore farà, per la riconversione dell'inceneritore in un impianto di selezione a freddo, che logicamente è molto più razionale e rispettoso dell'ambiente rispetto a un impianto di incenerimento. Ultimo punto che chiediamo di aggiungere è quello che la Regione incentivi e aiuti anche economicamente a completare la rete di percorsi di mobilità lenta, quindi percorsi ciclopedonali, con particolare riguardo all'aeroporto di Malpensa, perché noi sappiamo molti lavoratori raggiungerebbero l'aeroporto di Malpensa, che speriamo continui a sopravvivere, chiaramente siamo d'accordo sul fatto di porre particolare attenzione a quelle che saranno le strategie future per l'aeroporto nel rispetto dell'ambiente, ma è importante anche che noi permettiamo alle persone che vogliono muoversi con una mobilità lenta, quindi non inquinante e oltretutto utile per la salute, di raggiungere sia l'aeroporto che i nodi di trasporto pubblico che le stazioni ferroviarie, che logicamente potrebbero essere, è una richiesta anche questa del territorio, il fatto, dateci la possibilità di viaggiare in sicurezza tranquillamente, quindi direi che questo potrebbe essere veramente per la nostra provincia che è così verde e che ha comunque alcuni tratti molto belli, ricordo per esempio quello che io faccio spesso che circonda il lago di Varese, abbiamo delle piste ciclopedonali veramente molto belle, adesso dobbiamo finire e collegarle, quindi questo potrebbe essere veramente uno altro degli impegni di Regione Lombardia per ascoltare anche quelle che sono le voci del territorio. Grazie.